La novella di Rosso Malpelo ci immette immediatamente nel mondo di Verga Verista, nella scrittura ci mette di fronte a quella che è la rivoluzione stilistica operata da Verga, il quale mette al centro del suo racconto un ragazzino Rosso Malpelo che conduce una vita difficilissima lavorando nelle miniere del suo paese come aveva fatto suo padre. Ora il punto da mettere in evidenza da subito è come viene condotta, come è costruita la narrazione. Non riscontriamo più infatti la presenza di un narratore onnisciente che dall'alto osserva, commenta e giudica, perché uno dei primi portati della rivoluzione operata da Verga all'interno della scrittura è proprio rappresentato dalla regressione del narratore. La voce narrante regredisce allo stesso livello culturale e linguistico dell'ambiente rappresentato. Questo implica dunque una stretta coerenza tra il modo di esprimersi e il modo di pensare. Nel caso di Rosso Malpelo risulta evidente questo artificio perché tutta la prospettiva da cui è condotta la presentazione di Rosso Malpelo, specie nella prima parte del racconto, risulta deformata. Rosso Malpelo non viene presentato oggettivamente ma viene invece rappresentato da uno sguardo di parte che è quello dei suoi compaesani, quello dei suoi compagni di lavoro, i quali sono espressione di un mondo di pregiudizi, vale a dire di chi guarda agli altri da un'ottica che sicuramente risulta deformata. Un esempio per tutti capita nella prima parte della novella che Rosso Malpelo perda suo padre e che di conseguenza la sua disperazione lo porti a compiere dei gesti che vengono letti come gesti inconsulti, gesti come dettati da uno spirito diabolico che abita nel suo corpo. È chiaro che affermare una cosa del genere porta il lettore a concludere che tutto viene visto da una luce straniata e infatti è questo il secondo termine che introduciamo, il concetto di straniamento, vale a dire i fatti vengono sempre presentati in un'ottica che non è oggettiva ma di parte e questo induce il lettore ad un approccio critico perché è del tutto incongruente, inverosimile leggere certi gesti di Rosso Malpelo come dettati dalla cativeria o dalla malinità. È il caso per esempio del passaggio in cui si dice che egli aveva delle particolari attenzioni nei confronti di un giovane più piccolo di lui e gracile di costituzione. Ora le attenzioni che Rosso Malpelo riserva Ranocchio, questo è il nome del ragazzino, vengono lette come un raffinamento di malignità. Ecco allora che per effetto dello straniamento possiamo concludere che quello che sembra normale viene visto come anormale e anche viceversa. Il lettore manca di una guida, al lettore manca una voce narrante autorevole come per esempio si riscontrava nel romanzo di Manzoni che lo guidi nell'esatta comprensione dei fatti, che lo porti a comprendere i fatti per quello che sono e non per quello che sembrano.